Gli impianti sportivi comunali sono di nuovo aperti al pubblico, pienamente fruibili dopo la chiusura di questi mesi. Lo sono dallo scorso 25 maggio, così come la direzione degli impianti sportivi del Comune di Salerno ha comunicato, dando ai gestori degli impianti stessi il tempo necessario per adeguarsi alle nuove normative di sicurezza ed anticontagio. La pratica sportiva negli impianti comunali è garantita sotto la stretta responsabilità delle società ed associazioni che utilizzano le varie strutture. Molti sono gli sport praticati sia all'aperto che nelle varie palestre. Adesso bisognerà adeguarsi ai protocolli sanitari previsti dalle varie federazioni. Per quanto riguarda l'atletica leggera ad esempio si ricomincia da lunedì prossimo con due ore di disponibilità per un numero massimo di 25 atleti. Sono esclusi dal conteggio quelli di interesse nazionale. Accesso garantito anche ad un numero limitato di strutture. Tutto viene deciso di concerto con la federazione. È utilizzabile la pista ma a corsie alterne. Non tutte le pedane sono fruibili. Out lungo e salto in alto. Chiusi gli spogliatoi e niente scambio di attrezzi e dunque niente prove per le staffette. Un primo passo che naturalmente crea comunque del malcontento tra le centinaia di praticanti. Bisogna aggiungere anche le società di corsa su strada che rischiano di ritrovarsi con pochi spazi a disposizione. Lunedì prossimo infine ci sarà un medico che rileverà la temperatura degli atleti e degli struttori dopo una visita generale.